Cosa è alla fine di questa triste storia? Qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellare da questo viaggio per vivere davvero ogni momento, come ogni suo attorno a vento e come se fosse l'ultimo Da da va da 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 va da 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 Senta meno per la strada leggera ormai è seria Se accendono le luci e i lampioni La gente corre a casa davanti alle televisioni E un pensiero le passa per la testa Forse la vita non è stata tutta persa Forse qualcosa si è salvato Forse davvero non è stato poi tutto un bagnato Forse non è giusto così Forse ma forse ma sì Cosa vuoi che ti dico io? Senti che non è rumore